E oggi 6 luglio 2023, celebriamo anche l'anniversario della morte di Fra Daniele Natale. 29esimo anniversario e per ripercorrere i tratti salienti della figura di questo frate che ha conosciuto Padre Pio abbiamo qui in studio il direttore Stefano Campanella, il direttore di Padre Pio TV Stefano Campanella. Grazie direttore per essere qui con noi. Grazie a te dell'invito e di questa possibilità che mi dai di ricordare questo amato frate Cappuccino. Fra Daniele è in effetti una figura molto particolare nella storia del nostro convento e potremmo dire anche nella storia di Padre Pio per cui ti chiederei di tracciarci un profilo biografico di Fra Daniele Natale. Allora cominciamo dal 1919 che è l'anno in cui a San Giovanni Rotondo nacque questo bambino che si chiamava Michele Natale. Quarto di sette figli, i genitori erano entrambi agricoltori e pastori per cui chiaramente anche lui come i suoi fratelli e le sue sorelle ebbe come eredità questo mestiere che fin da piccolo cominciò a svolgere non solo coltivando i campi di famiglia o portando al pascolo le pecore di famiglia ma siccome c'erano tante bocche da sfamare i genitori diedero a lui la possibilità di lavorare, di prestare la sua opera presso una famiglia nobile di possidenti san Giovannesi presso i quali lui si fece voler bene tanto che lo trattavano come un figlio e proprio mentre abbiamo visto anche i genitori Angela Maria De Bonis e Bernardino Natale i genitori di Fra Daniele nelle immagini che diciamo sono state mandate sull'Edward proprio mentre era nei campi di questa famiglia ebbe un primo segno una sorta di luce che partiva dal paese di San Giovanni Rotondo e che lo raggiungeva più in là all'età di 14 anni invece sentì una voce interiore quindi già questi due primi segni ci fanno capire che anche Fra Daniele ha avuto dei doni mistici e sono state una delle caratteristiche che l'hanno reso così popolare una voce interiore che lo diceva vieni a seguirmi nell'ordine dei frati minori Cappuccini e lui di getto bambino rispose ma devo lasciare mia madre e questa voce te ne darò un'altra a cui puoi chiedere tutto quello che vuoi che anche la madre di tua madre quindi evidentemente questa voce era la voce di Gesù e seguì Michelino questa voce ma prima di partire per Vico del Gargano dove avrebbe dovuto cominciare la sua esperienza in convento passò a chiedere la benedizione del superiore al convento dei frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo e li trovò alla sorpresa di padre Pio che lo benedisse anche in questo suo cammino che iniziava per farla breve comincia il cammino sta a Vico, da Vico lo trasferiscono a Foggia a Foggia il provinciale dell'epoca padre Bernardo d'Alpicella si rese conto che questo bambino nonostante non avesse potuto studiare perché da piccolo tutto il tempo era per le pecore e i campi aveva una grande intelligenza gli diede una biografia di San Corrado da Parzam appena canonizzato da Papa Pio XI dice leggila e poi fammi capire lui la lesse, la divorò e poi fu in grado di riferire i contenuti di quella biografia in termini così precisi che padre Bernardo dice beh tu ti devi diventare sacerdote sei intelligente, sei bravo, sei studioso, hai grandi capacità no disse ancora Michelino non era ancora Fra Daniele disse ho capito leggendo la vita di San Corrado da Parzam che si può diventare santi da frate laico e quindi anch'io voglio fare il frate laico per santificarmi come è avvenuto a San Corrado da Parzam e rimase proprio convinto di questa cosa e quindi fece la sua vestizione nel 35 assumendo il nome di Fra Daniele da San Giovanni Rotondo nel 36 la professione temporanea nel 40 quella perpetua Fra la temporanea e la perpetua ebbe un permesso per venire a San Giovanni Rotondo si confessò da padre Pio e a padre Pio si propose come suo padre spirituale terminata questa fase fu destinato a Foggia dove fece la drammatica esperienza dei bombardamenti del bombardamento della città dove si prodigò anche col rischio della sua vita per soccorrere i feriti per prelevare i corpi dei morti per dare degna sepoltura per salvare le superlettere religiose della chiesa conventuale e metterle a sicuro e questa esperienza lo traumatizzò molto stiamo parlando della seconda guerra mondiale seconda guerra mondiale il bombardamento famoso del 1943 dopodiché cominciarono per lui alcuni periodi anzi forse tutta una vita di periodi dolorosi di via crucis perché cominciò con un problema molto serio all'addome che lo portò al regina Elena di Roma dove pensavano fosse un tumore della milza in realtà quando lo operarono scoprirono che si trattava di una echino coccosi cioè di una infestazione di vermi nella milza che comunque gli fu asportata ma quello fu l'inizio di una serie di malattie che lo portò continuamente in ospedale per varie cause fino al 1991 quando corse in ospedale con una rottura di una neurisma della aorta nel 95-97% di rottura di neurisma della aorta non si fa in tempo ad arrivare in ospedale quando il professor Tardio lo aprì con molta trepidazione perché sapeva che era un intervento ad alto rischio si rese conto che il peritoneo aveva tamponato la rottura impedendo che quell'emorragia la rottura della neurisma diventasse devastante e quindi mortale perché questa preoccupazione di Tardio perché nel frattempo si era manifestata ed era diventata pubblica la fama di santità di Fra Daniele sia per la sua umanità per le sue doti personali per il suo vivere le virtù cristiane ma anche per i carismi che sempre di più cominciavano a manifestarsi e che lo reso popolare in tutta Italia e anche all'estero perché nel frattempo si era preso la briga con la benedizione di Padre Pio di diventare l'apostolo della fondazione dei gruppi di preghiera quindi girava l'Italia girava all'estero per cantare le lodi del Signore per quello che aveva compiuto in Padre Pio tutto questo ha reso anche Fra Daniele un personaggio molto noto la sua fama di santità lo ha accompagnato fino alla morte per un altro aneurisma questa volta a cui non c'è stato rimedio della orta avvenuto appunto il 6 luglio del 94 e questa fama di santità poi ha indotto i frati trascorso il tempo necessario a cominciare il processo di beatificazione la causa di beatificazione è tuttora in corso a che punto siamo? Allora dopo la fase diocesana che si è conclusa è iniziata la fase vaticana è stata stampata la cosiddetta posizio super virtutibus che è la sintesi di tutto il materiale raccolto dalla commissione storica e dal tribunale ecclesiastico a livello diocesano sulla quale inizierà la valutazione prima dei censori teologi della congregazione delle cause dei santi dopo il voto dei censori teologi ci sarà quello dei cardinali e dei vescovi dopodiché sarà il papa a decidere e se il parere di tutti e tre questi organi competenti sarà positivo a Fradaniele spetterà il titolo di venerabile e verrà emesso il decreto sull'eroicità delle virtù quanti volessero recarsi in preghiera sulla tomba di Fradaniele dove devono recarsi? Ecco fino al 10 ottobre 2015 si recavano al cimitero nella cappella di famiglia dove è rappellito poi essendo stato avviato ed era già a buon punto il processo di beatificazione c'è stata la traslazione della salma all'interno del santuario di Santa Maria delle Grazie in una cappella che si trova subito dopo l'ingresso sulla destra del santuario dove più agevolmente senza poi andare a cercare la chiave per aprire la cappella cimiteriale chiunque può andare a pregare sulla tomba di Fradaniele grazie direttore è stato veramente un piacere ascoltare le sue parole su questo frate così particolare così importante per noi di San Giovanni Rotondo per cui celebriamo oggi alle 18 una santa messa proprio in onore di questo anniversario della morte di Fradaniele Natale nel frattempo la ringrazio per la sua disponibilità e vi auguro buon proseguimento di giornata grazie grazie a tutti